Ciao a tutti, bentrovati, bentornati o benvenuti sul canale. Buona domenica a tutti voi, io oggi sono a casa da sola, gioisco per questa piccola gioia, felicità che mi è capitata. Paolo è a un concerto in Svizzera, Mattia festeggia il suo compleanno, oggi ragazzi 25 anni e già mi sono fatta delle pare con i suoi amici. Lucia è agli scout, io mi sono fatta invitare a mangiare dalla mia mamma, sono ritornata per una volta alla figlia unica di tanto tempo fa e ho qualche oretta di tempo libero e ho deciso di dedicarla ai miei hobby, ai miei piacere, fare una bella chiacchierata con voi. Se sentite un canto è, oltre agli uccellini che ci sono sugli alberi fuori in giardino, c'è la mia vicina di casa, una giovane ragazza di Santo Domingo che è appassionata di canto. Peccato che poveretta non è molto intonata, quindi quando canta, canta a squarciagola e però non ho il coraggio di dire che non è intonata, fa niente. Ci gustiamo anche il canto, a lei piacciono tutte quelle musiche spagnole, intanto balla sul terrazzo, vabbè, è veramente carinissima da vedere. Comunque non perdiamoci in chiacchiere, come avete visto dal titolo di questo video, avevo dei dupe e non lo sapevo. Allora, premetto una cosa, non sono alla ricerca di dupe, nel senso che mi piacciono molto i profumi commerciali, se me lo posso permettere, me li compro, perché comunque dietro ad un profumo commerciale ci sono dei nasi famosi, ci sono degli studi anche grafici per quanto riguarda la confezione, il packaging, la bottiglietta, lo studio che c'è dietro alla pubblicità, cioè io apprezzo da artista handmade, apprezzo molto queste cose, mi piace molto scoprire come è nata magari una confezione il naso che ha formato questo profumo e quindi non sapevo che questa marca di profumi che io possedevo fossero dupe. L'ho scoperto in questi ultimi mesi perché appunto di profumi sono sempre stata appassionata, ma non ho mai pensato di fare dei video sui profumi, andando poi a cercare, vedendo i video di amici e amiche che seguo e che fanno video sui profumi, ho capito che questa marca era una marca che faceva profumi di ispirazione. Allora, cosa è successo? L'anno scorso d'estate, sì, era prima di partire per le vacanze, sono andata nella mia farmacia dove ci sono delle ragazze molto carine che mi seguono, mi consigliano sui vari prodotti che vorrei acquistare, chiedo anche soltanto delle informazioni, c'era forse neanche l'anno scorso, due anni fa, sì perché poi il packaging è cambiato, e c'era questo stand di profumi, Yap Pharma, che faceva bella mostra davanti alla cassa della farmacia. Io ovviamente appassionata di profumi, chiedo alla ragazza, scusa li posso provare? Se sì, assolutamente, anzi se hai qualcosa da chiedere, chiedimi che se posso ti consiglio, e quindi spruzza di qua, spruzza di là. Probabilmente c'era anche la lista dei profumi a cui erano ispirati, ma io veramente non ci ho fatto caso, ho provato un po' di profumi, era estate volevo dei profumi freschi e me ne sono accaparrata due, il prezzo era molto conveniente perché ai tempi costavano 5 euro o 4,50, ricordo che costassero, costavano, costavano veramente poco, me li sono portati a casa, me li sono utilizzati per tutta l'estate e finita lì. Quando poi ho rivisto e ho visto sui vari canali che questi profumi erano profumi ispirati a profumi di marche famose, sono andata a vedermi a cosa erano ispirati. Il mese scorso, sempre in farmacia, poi sono ritornata varie volte nella mia farmacia perché poi è proprio vicino a casa mia e quindi è quella in cui mi servo maggiormente, non ho più visto questo brand di profumi. Ce n'erano altri che però io non ho mai acquistato, perché va bene i profumi ne ho a sufficienza e oltre, verso l'infinito e oltre sono i miei profumi. Un mesetto fa sono ritornata appunto in farmacia e ho rivisto lo stand nuovo di Yap Pharma, allora ho chiesto questa volta sapendo bene che erano profumi di ispirazione se avessero la leggenda dei profumi e me l'hanno fatta vedere, quindi io li sono andata a colpo sicuro. Ripeto, non ho cercato dei profumi di ispirazione perché non li posso comprare, perché non li posso permettere, cioè piuttosto se devo comprare un profumo che costa 70-80 euro piuttosto che fare tre ordini di 20-30 euro, aspetto, mi faccio i miei calcoli e mi compro il profumo che voglio. Mi piacciono i profumi commerciali, mi piace avere il profumo originale e quindi ecco, è così. Però ero giù, ho visto nuove fragranze e ho detto ma dai, ciò che le provo. Il prezzo del 50 ml è di 5,50 euro e il prezzo del 150 ml, non c'è neanche il 100, è di 15,50 euro, quindi prezzi davvero molto low cost che ci permettono di provare così nuove fragranze e se poi, eventualmente, la fragranza che è ispirata ci piace possiamo anche pensare di comprare l'originale. Tutta questa ambaradan per dirvi che ho quattro profumi di App Pharma e che ve li voglio raccontare. Tra l'altro, di due ho il campioncino e sono fortunata così, ho potuto anche capire se veramente assomigliano oppure no. Di uno non ho il campioncino ma è un profumo che ho usato per molti, molti, molti anni e quindi appena me lo sono spruzzato ho detto è lui, questo è sicuramente lui. Di cosa stiamo parlando? Primo profumo. Pharma numero 11. Tra l'altro mi piace tantissimo la confezione è molto semplice, è molto lineare mi piace la scritta. Questa è il vecchio pack lo trovate tranquillamente ancora in circolazione questo è un brand che viene venduto in farmacia e in parafarmacia online lo trovate a prezzi veramente scontatissimi quindi questo era 5 euro 4,50 euro e anche sui 4 euro sui 3,78 l'ho anche visto ci sono ancora tutte le formulazioni e questo è il vecchio pack molto molto carino. Allora, Pharma 11 si ispira al profumo Be Delicious di Donna Karen D-K-N-Y ve lo dico così come è scritto perché non so se c'è un modo per pronunciarlo bene comunque Be Delicious di Donna Karen e qua che cosa abbiamo? Be Delicious di Donna Karen ce n'è rimasto uno spruzzo e l'ho tenuto per voi. Allora, ce lo spruzziamo tolgo i braccialetti se no si rovinano i miei fantastici braccialetti di Shane ce lo spruzziamo sono questi due profumi il numero 11 e il numero 21 sono due profumi freschissimi allora Be Delicious io vi riporto le note del profumo originale perché per legge così ho capito sui siti non potrebbero neanche più dire a che profumo è ispirato almeno queste sono le cose che ho letto in giro non so se siano vere oppure no però vi riporto le note del profumo originale allora le note di testa sono Cetriolo Pompelmo Magnolia le note di cuore sono Mela Verde Mughetto Tuberosa Violetta e Rosa le note di base sono Note Boschive Sandalo e Ambra questo è un profumo freschissimo è proprio una ventata di aria fresca esplode la primavera esplode quel sole caldo con l'aria fresca tipica di queste giornate primaverili qui da noi settimana scorsa ha fatto veramente molto freddo ha nevicato sulle montagne e siamo ritornati alla mattina ai 4-5 gradi quindi diciamo adesso il sole è ritornato le belle giornate sono tornate ma l'aria è veramente pungente soprattutto alla mattina alla sera di giorno quando si scalda arriviamo anche ai 18 gradi sono le giornate primaverili belle di cielo terzo una ventata di aria fresca di primavera è buonissimo allora le note principali che io sento sono la mela o la mela croccante e la nota del cetriolo la nota del cetriolo si sente tantissimo e a me il cetriolo piace non mi piace come verdura cruda mi piacciono solo i cetrioli sott'aceto ma il profumo del cetriolo non mi piace perché faccio fatica a digerirlo il profumo del cetriolo mi piace tantissimo mi dà proprio l'impressione dell'estate della primavera di quelle belle insalate gustose croccanti e qui la nota del cetriolo si sente tanto quindi se non mi piace il cetriolo questo profumo non va per voi cetriolo mela pompelmo tutte queste note molto molto fresche molto gioiose molto frizzanti e si sente si sente si sente bene insomma è un profumo che mi rimane per 4-5 ore nonostante sia un profumo di ispirazione un dupe mi piace tantissimo sono arrivata ovviamente a più di metà però questo poi l'ho interrotto l'ho usato d'estate e a ottobre ho smesso di utilizzarlo per avere poi dei profumi più caldi più avvolgenti anche se magari poi in una giornata autunnale bella e soleggiata ce lo si rispruzza per avere così il ricordo dell'estate della freschezza dell'estate è un profumo molto fresco non fastidioso fa ricevere complimenti più di una volta quest'estate mi hanno chiesto che profumo usassi e io ho detto soltanto Yap Pharma numero 11 perché non sapevo che era ispirato a Bidelicious dall'altra parte ci spruzziamo il Bidelicious lo spruzzo sul palmo della mano questo non è uno swatch questa è una scottata del giorno di Pasqua io con il forno ho un amore e odio cioè mi faccio di quelle scottate però lo sto curando con una crema che se funziona vi dirò miracolosa allora questo secondo me molto sinceramente è l'unico dei profumi che assomiglia a Bidelicious quando si è ormai sistemato sulla pelle quando si è scaldato perché mentre qui abbiamo un'esplosione fresca di cetriolo di menta di pompelmo qui subito nel Bidelicious si sente tantissimo il profumo della magnoglia della tuberosa della violetta quindi qui prevalgono il mix di profumi agrumati di note agrumate e fresche verdi mentre qui prevale sicuramente nel Bidelicious alla prima spruzzata quello che è il bouquet fiorito abbastanza intenso entrambi secondo me hanno la stessa durata durano 5 5 ore questo a me dura 5 ore però vabbè ovviamente poi me lo rispruzzo perché anche rispruzzandolo non è un profumo fastidioso anzi secondo me è un profumo perfetto per una passeggiata all'aria aperta perfetto da portare in ufficio perfetto perché no anche per una serata allegra in compagnia per un pinnick per una bruschettata una pericena è veramente un profumo un profumo delizioso allora all'inizio come vi dicevo per questo rimane appunto questo mix molto grumato molto fresco molto frizzante poi pian piano quando si scalda e ha la sua evoluzione escono escono fragranze il cetriolo ragazzi si sente che è una meraviglia il cetriolo e la violetta adesso si comincia a sentire anche la violetta e si trasforma poi in questo profumo fiorito molto delicato si sente anche un po' il gelsomino quel gelsomino che non è ancora sbocciato che non è in fiore che emana quel profumo quando ci passate vicino qui c'è una pianta di gelsomino e quando è proprio fiorito fiorito è molto profumato molto intenso quel gelsomino che sta sbocciando piano piano e quindi ancora quel sentore un po' verde che regala secondo me la freschezza anche lui a questa a questa fragranza quindi diciamo ci sono queste due diversità e secondo me questo è l'unico che non assomiglia propriamente al profumo originale ma lo trovo di una bellezza davvero molto fresca molto giovanile molto allegra quindi io per 5,50 euro volete farvi l'estate ve lo consiglio assolutamente non lo trovo molto somigliante soprattutto in apertura al profumo originale però molto molto buono passiamo ora al secondo profumo che Farma Yap numero o Yap Farma come volete voi numero 21 e questo è sempre della vecchia collezione mi sono dimenticata di dirvi che questa è un'azienda spagnola che usa ingredienti naturali dalla presentazione dell'azienda appunto dice che ci sono tutti i certificati di qualità io devo dire che per il profumo che ho provato mi sono sempre trovata molto molto bene e poi davvero i prezzi sono molto molto low cost e quindi ci permettono di provare tante fragranze indipendentemente dal fatto che siano dupe oppure no e di trovare quella che ci piace ad un prezzo ragionevole io non è che vado cioè ok se so che prendo un profumo da 150 euro e mi rimane sulla pelle magari un'oretta o due vabbè magari mi posso anche arrabbiare se compro un profumo da 5 euro e 50 e mi rimane 3 ore sulla pelle insomma è molto di più di quello che io mi aspettassi quindi perfetto cioè vi ripeto non ricerco il dupe ricerco il profumo che mi piace ci sono profumi che costano molto di più e che magari alla fine quando li porto per un po' di tempo non mi piacciono quindi preferisco magari fare un ordine di 5 profumi di 5 euro 10 euro piuttosto che un ordine di un profumo da 150 euro che poi magari mi stanca e mi stufa non mi è ancora capitato perché i profumi li amo tutti però potrebbe anche essere questo è il Pharma 21 che è sempre ispirato e io non lo sapevo ma ha un profumo della stessa della stessa stilista o della stessa creatrice che è Donna Karen e questo è ispirato al woman energizing 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 woman woman energizing ok potete andarvene se volete le note di testa sono agrumi vodka e foglie di violetta le note di cuore sono loto narciso e orchidea le note di base sono betulla e note boschive allora spruzziamocelo qua mi piace tantissimo mi piace tantissimo questo profumo si apre con un cesto di agrumi appena tagliati dove cade la goccia del succo e dove il profumo della buccia rimane nell'aria è è una meraviglia di agrumi mandarino cedro limone arancia si sente il profumo della polpa dolce fresca e il profumo della scorza quando avete in mente quando grattugiate la scorza per fare la torta ecco il profumo è quello lì un profumo fresco con un tocco leggermente amaro e frizzante dato dalla scorza dell'arancia questo lo dico io che sono un naso profumiere inventato è freschissimo è energizzante spumeggiante e sento poco poco le note fiorite non ho il paragone del profumo originale quindi io non lo conosco ma mi piace tantissimo mi piace quasi più di questo che questo è molto molto fresco questo lo trovo perfetto per una giornata calda estiva in riva al mare dove il calore scalda la pelle ma questo profumo non si scalda io l'ho provato l'ho portato quest'estate e l'ho portato anche l'estate scorsa e davvero regala una freschezza meravigliosa è buonissimo buonissimo ci sono delle note fiorite l'orchidea e il narciso io però non non le sento è un profumo secondo me adatto veramente all'estate alla primavera sicuramente ma è perfetto in estate mi ricorda una doccia fredda in piena estate adattissimo alle giornate super calde a quelle avete in mente affose quelle di questi ultimi anni dove magari si arrivano anche i 33 34 gradi dove non riesci a respirare una spruzzata di questo profumo così vi fa rinascere vi dà un tocco di energia vi dà un attimo la carica in questa giornata un profumo davvero pulito buonissimo ce lo rispruzziamo questi agrumi regalano una energia pazzesca e questo è il Yap Pharma numero 21 arriviamo invece ai due profumi che ho comprato con coniezione di causa cioè sapendo che erano dei dupe e cercando il dupe che cercando il profumo di ispirazione che assomigliasse al dupe che volevo provare uno è stato il mio profumo del cuore per tanti 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 anni penso di averne comprate almeno 4 flaponi perché per tanti anni mi ha accompagnato ed è ispirato è il Pharma 29 e questi sono i nuovi pack carino essenziale il colore qui lo vedete è un po' azzurrino sono molto simili cambia soltanto l'etichetta perché poi si anche il tappo il tappo qui è più regolare segue la forma della bottiglietta di vetro questo invece era più piccolino però sono molto molto simili allora questo è ispirato ad acqua di gioia di Armani e io non ho un campioncino ma per la mia piccolissima esperienza solo passionale perché sono solo una appassionata di profumi questo ci assomiglia al 98% infatti quando io me lo sono spruzzato Paolo mi ha detto ma questo profumo che cos'è l'hai già messo in tanti anni l'hai già messo tanti anni fa e io ho detto sì non è proprio questo profumo che ho messo tanti anni fa mi fanno no no questo è il profumo che portavi tanti anni fa ricordo che lo portavo quando forse era nata Lucia o insomma intorno a quegli anni lì e l'ho portato per veramente tanti anni mamma mia allora le note di testa sono limone di amalfi e menta le note di cuore gelsomino acquatico la nota di base cedro della virginia labdano francese e zucchero di canna mamma mia mi sono proprio scritta mi sono davvero meravigliata per la somiglianza di questo profumo all'originale il profumo della nota di limone di testa e menta per me regalano un momento di estasi cioè acqua di Gio era veramente quel profumo che mi faceva star bene sempre mi faceva sempre sentir sicura mi faceva sempre sentire a posto con me stessa mi faceva sentire sbarazzina mi faceva sentire giovane ai tempi lo ero e quindi questo è stato un ritornare nel passato allora all'inizio è intenso e fresco si sente molto appunto il limone e la menta è un mix meraviglioso poi subito nella prima mezz'oretta di evoluzione esce il gelsomino acquatico e il cedro che ammorbidiscono questa freschezza iniziale la rendono più rotonda non la cancellano del tutto e il labdano e lo zucchero di canna regalano invece la dolcezza che alla fine rimane perché acqua di gioia perché non è acqua di gioia alla fine rimane comunque un profumo anche leggermente fiorito un po' dolcino adesso è nata via la luce cioè i miei video sono famosi per il cambio di luce che ci sono però non ho acceso nessuna lampada perché oggi ragazzi c'è il sole a pieno cilio e quindi è un profumo alla fine anche un po' muschiato rimane comunque la base fresca del limone della menta il gelsomino leggermente si sente il cedro sicuramente regala freschezza e accompagna tutta l'evoluzione di questo profumo e lo zucchero di canna alla fine addolcisce è un profumo meraviglioso per me sarà perché è legato appunto agli anni in cui era una giovane mamma e mi sentivo la regina del mondo e adesso mi sono accorta che mio figlio maggiore ha compiuto 25 anni e oggi ho fatto un piccolo bilancio su me stessa come mamma non so se è positivo se è negativo fatto sta che io ce ne ho quasi 53 e lui e lui ne ha 25 25 anni ragazzi è un uomo fatto e a me sembra sempre lo stupido di quando era piccolino questo ovviamente lo dico con tanto amore sappiatelo perché i miei figli se qualcuno me li tocca li ammazzo però davvero ho pensato alle tante difficoltà che ha passato con le sue difficoltà di apprendimento ho pensato a quando ho fatto la maturità e io dopo averlo accompagnato e averlo anche un po' ruzzolato su perché lui era agitato e aveva paura dopo che l'ho lasciato al cancello della scuola superiore dove doveva fare la maturità ho parcheggiato e ho cominciato a piangere come una matta sembra che io non sia emotiva e non sia sentimentale ma in fondo in fondo lo sono soprattutto con le persone a cui voglio veramente bene poi magari so anche essere molto dura per cercare penso io magari di aiutarli di stimolarli però insomma con Mattia è stata per tanti anni una vita soprattutto per lui molto molto in salita molto difficoltosa sulla sua autostima vedere che adesso comunque ha un posto di lavoro che gli piace che si trova bene ieri sono andata a vedere per esempio uno spettacolo che aveva fatto perché lavora lavora perché partecipa a una compagnia teatrale e fa delle piccole comparse cioè sono tutti dei traguardi che ha raggiunto che ha raggiunto da sola e da solo e dove magari io tante volte non capivo ero stanca era una situazione pesante con tre figli ognuno con tutti i suoi piccoli problemi insomma è davvero una bella una bella soddisfazione sapere che i tuoi figli ad un certo punto vanno e fanno quello che la vita gli propone e decide per loro però vabbè sono sempre i tuoi figli quindi ti fai anche un po' un bilancio personale vabbè stavamo parlando di profumi ma sapete che io nei profumi e in quello che vi racconto ci metto la mia vita altrimenti non sarei la Eli Valsecchi che tutti conoscono come mi ha detto oggi la mia amica Betta che è quella che si incontra per strada è la Eli che vediamo nei video e questo secondo me è il più bel complimento che una persona mi possa fare se piaccio a quella persona se non piaccio non piaccio né in strada ma né fuori vabbè è lui è Acqua di Gioia di Armani questo gli assomiglia come vi ho detto al 98% sarà perché ho questi ricordi legati a questo profumo però per 5,50 euro vale la pena per chi ama il profumo Acqua di Gioia provarlo e poi mi direte magari è soltanto il mio naso che ricorda e la mia mente il mio cuore che ricordano delle cose che mi fanno sì che questo profumo mi assomigli ad Acqua di Gioia siamo arrivati all'ultimo e scusate perché qua ci ciariamo ci ciariamo ultimo profumo non spaventatevi 150 ml 150 ml perché quando io ho provato il tester purtroppo non c'era il 50 ml e quindi la ragazza mi ha detto ma dai senti se ti piace ne spruzzi un po' di più e lo finisci vabbè e quindi me lo sono me lo sono comprato allora il Farma 85 è ispirato alla Libre di Yves Saint Laurent che io amo amo tantissimo perché i profumi hanno un certo costo però è veramente buonissimo diciamo che come tipologia dei profumi questo è l'unico che si discosta secondo me dall'essere un profumo fresco frizzante brioso che possiamo mettere a go go per tutta la giornata questo no io mi sono spruzzata e sono una che va abbondante negli spruzzi ho tre campioncini me li sto tenendo da conto tantissimo però adesso ho visto che questo comunque gli assomiglia parecchio e mi son detta ce ne abbiamo 150 ml qua possiamo tranquillamente finire i campioncini qua allora note di testa sono lavanda mandarino ribes nero e petit grain le note di cuore sono lavanda fiore d'arancio gelsomino le note di base sono vaniglia del madagascar muschio leno di cedra legno di cedro e ambra grigia secondo me si somigliano parecchio ma parecchio parecchio non so più dove spruzzarmelo qua qui non l'ho spruzzato niente allora di qua spruzziamo l'Ive Saint Laurent profumo sensuale sensualissimo e dove lo spruzziamo spruzziamo sulla mano qui gli spruzzi abbondo guardate non direi il 100% perché non sono un naso però ci sta tutto si assomigliano davvero tantissimo le note fruttate secondo me le si sente solo all'inizio si sente il ribes nero si sente il mandarino ma è una toccata e fuga quello che più sprigiona questo profumo a mio parere e nel mio naso sono tutte le note dei fiori quindi il gelsomino la nota del fiore d'arancio la vaniglia tanto si sente proprio tanto è un profumo che dura tantissime ore allora io vi dico che in questi giorni e guardate quanto ne è rimasto di questo questi giorni me lo sono spruzzata per tre giorni e questo profumo io l'ho sentito alla mattina uno spruzzo qua uno spruzzo qua e uno spruzzo qua perché avevo già capito che comunque era un profumo molto persistente molto sensuale molto strong questo profumo magari potrebbe dar fastidio nelle giornate più calde potrebbe far venire anche il mal di testa perché è davvero molto 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 intenso però è buonissimo è un profumo dolce è un profumo avvolgente pieno intenso questo bouquet fiorito rimane a parte proprio diciamo questa toccata e fuga degli agrumi all'inizio e dei frutti del ribes nero del mandarino del petit grain alla fine poi quello che esce è proprio questo bouquet fiorito molto molto intenso e soprattutto la vaniglia la vaniglia accompagna rende dolce lo avvolge lo arrotonda è veramente un profumo spettacolare è proprio buonissimo mamma mia questo tutto qua buono dura dura tantissimo allora questo vi dura tutto il giorno questo io l'ho spruzzato lo spruzzo alla mattina alle 7 più o meno fino alle 4 5 del pomeriggio lo sento tutto non c'è bisogno di rispruzzarlo assolutamente è un profumo veramente meraviglioso è un profumo che vi fa sentire sexy è un profumo sensuale e per me ci assomiglia al 90% diciamola così ma tanto io sono solo un'appassionata anche se dico delle stupidate toccherà a voi provare e nulla penso di avervi così raccontato i miei profumi quelli che non sapevo fossero dei dupe quelli che invece ho comprato proprio cercando il dupe ma sicuramente l'originale sarà un profumo che io comprerò perché mi piace la confezione perché adoro il Saint Laurent il Saint Laurent tra l'altro è una marca è una marca è un brand che mi ricorda tanto una persona molto molto importante nella mia vita che è stata la mia madrina di Cresima la mia zia Carla che anche se non era mia zia è comunque una zia adesso comunque molto anziana ma lei portava solo ed esclusivamente profumi di Saint Laurent e si truccava solo ed esclusivamente con make up Yves Saint Laurent era e era ai tempi quando era giovane che io me la ricordavo una donna di classe una bellissima donna lo è ancora anche se è anziana e anche se la vita fa il suo corso e e quindi per me Yves Saint Laurent è Yves Saint Laurent ed è la zia Carla ecco quindi ho questo questo legame di cuore legato a questo a questo brand e nulla ragazzi io vi saluto spero di avervi fatto un po' di compagnia come al solito in mezzo alle recensioni chiamiamoli così che poi non sono recensioni in mezzo ai miei racconti ci va dentro anche la mia vita ma non mi chiamerei Eli Valsecchi e il mio canale non sarebbe così perché non sarei io vi abbraccio vi saluto vi auguro un buon proseguimento di domenica e adesso io vado a preparare un altro video visto che c'ho tempo ne approfitto vi saluta che godi e io vi do appuntamento ad un prossimo video ciao